La cavalcata del Foggia verso i play-off si basa non solo sull'ottimo stato di forma degli uomini di Zeman, andati a segno per ben 20 volte nelle ultime sei gare, ma è rafforzata anche dei numeri. Al momento sono 5 le squadre che si stanno giocando la terza posizione in classifica. Oltre al Foggia c'è l'Avellino, che occupa attualmente il terzo gradino del podio, il Monopoli, la Virtus Francavilla e il Palermo. Attualmente Curcio e compagni hanno una media punti pari a 1,53 e con la probabile restituzione dei due punti in classifica, i rossoneri sarebbero ad appena 4 lunghezze dai campani, con lo scontro diretto da giocare alla zaccheria. Sempre in casa il Foggia affronterà il Catanzaro dell'ex Iemmello, che a Foggia troverà un ambiente particolarmente caldo ad attenderlo. Il presente però si chiama Vibonese, avversaria del Foggia domenica pomeriggio e ultima in classifica con 9 punti dall'Andra, che è penultima, e ben 12 dalla Paganese terz'ultima. I calabresi sono reduci dallo 0-0 contro il Monterosi e non vanno a segno da ben tre partite. Un'occasione ghiotta per Ferrante e Soci per continuare la rincorsa verso una posizione importante in ottica spareggi. Occhio però ad abbassare la guardia e fare passi falsi che in questo momento sarebbero deleteri. I tifosi rossoneri non vogliono smettere di segnare.